Un piano di interventi atto ad innovare la veste dell'aeroporto d'Abruzzo. La gestione della società aeroportuale annuncia una serie di lavori finalizzati alla messa in sicurezza, riqualificazione, completamento e ammodernamento che interessano l'area airside e l'anside. Nel quadro degli interventi di manutenzione straordinaria in programma nell'area airside si annuoverà la manutenzione della pavimentazione, della pista di volo, della pista di rullaggio e dei raccordi, altresì la manutenzione della segnaletica della pista e delle vie di rullaggio e la riqualificazione del piazzale di sosta per un ammontare complessivo di 4 milioni 420 mila euro. Intanto il Consiglio regionale nella seduta di ieri ha approvato il progetto di legge per la valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo che prevede lo stanziamento di un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Saga, la società che gestisce lo scalo pescarese, un contributo che non è stato accolto positivamente dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. Vogliamo la salvaguardia dell'aeroporto d'Abruzzo ma ci sono tutta una serie di criticità che abbiamo avanzate sulla Saga, la Saga che sono state anche avanzate dagli ispettori del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi noi abbiamo chiesto più trasparenza, più chiarezza, abbiamo messo in discussione un'evidenza pubblica, riteniamo che il vettore non vada scelto a trattativa affidamento diretto ma ci deve essere un'evidenza pubblica e riteniamo che questi finanziamenti alla Saga senza aver avuto delle risposte concrete ai nostri quesiti non possono essere erogati, quindi noi diciamo prima venga fatta trasparenza, prima rispondere a tutti i quesiti che abbiamo posto anche nelle commissioni competenti e poi valutiamo cosa serve o cosa non serve.